La scorsa notte a Gravini in Puglia, in via Casale, è stata svaliggiata una gioielleria. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, quattro malviventi a volto coperto hanno dapprima manomesso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza e poi, con l'aiuto della fiamma ossidrica, hanno letteralmente tagliato la sara cinesca entrando indisturbati nella gioielleria e svaliggiandola. Quando ormai i ladri in azione avevano già quasi ripulito la gioielleria, sul posto sono giunti i carabinieri che li hanno messi in fuga. Inutile il tentativo di inseguirli, dato che i quattro sono fuggiti a bordo di una potente BMW. Stando ad una prima stima, il furto ammonterebbe a diverse migliaia di euro.